Bentornati a Sherwood Festival con The Smiths, qui con me. Grazie per essere qui, avevate promesso non ci sarebbe mai stata una reunion. I really appreciate that. Please, 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 let me do what I want. Bene arrivato allo stato sociale. In che stati siete arrivati a fine tour? Siamo integri, integri ma liquidi. Poi attraverseremo anche la fase gassosa, tra un po'. E poi, quando dobbiamo salire sul palco, ci solidifichiamo. Del resto è sempre un cambio di stato. Esatto, proprio così. Qual è il vostro passaporto musicale per questa esibizione di Codesta serata? Noi siamo senza cittadinanza. Perché Apolide è in un'altra città come festival. Ah, scusa, non era Apolide questo. No, devo ricordartelo. Mi confondo sempre. Non è nemmeno Atreyu, quello che dice il stupido cavallo a tutti quando hai presente. Che però poi magari ti porta bene perché puoi riorganizzare una reunion alcuni anni dopo con la gigantesca scritta CCCP. Oppure con la gigantesca scritta Bennet quando arrivi verso Ravenna. Perché comunque come una cosa, come anche un'altra. Come stai, Momo? Ti facciamo noi l'intervista oggi. Al momento sono seduto, grazie. E voi? Abbastanza bene, sei in vacanza, ho visto che sei in giro. Ho lo schienale in questo momento. Mi sento davvero fortunato. E come vi sentite seriamente dopo queste date e quest'ultima data in particolare che freme un po' sotto i vostri glutei e nelle vostre mani e nelle vostre menti? The Smiths. Beh, finché abbiamo delle buone spie ci sentiamo bene comunque. Cioè su questo palco ci sono delle spie. Questo anche la Stasi aveva un cuore. D'altronde, certo. No, ci sentiamo bene, dai. Non abbiamo fatto tanti concerti alla fine questa estate. Cos'è questo il numero? Due. Due. Quindi, tre prima dell'estate. Abbiamo avuto un inverno abbastanza carico, però stiamo bene. Siamo fin troppo riposati, diciamo. Carico di date. Carico di date. Io direi anche live. Live, live. È anche un po' brivido. È anche un po' murato. È sempre bello pensare. Ciao Uda, ti vogliamo bene. Sciabola. Detto questo, insomma, per tornare un attimo a delle cose importanti, Matteo è morto. Viva Matteo. Viva Matteo. Matteo è con noi, è vivo con noi. Matteo non c'è. Il carico che avete addosso non è un alleggerimento, ma è una pesantezza. Le persone fanno pronostici, bookmaker, cose del genere, sulle vostre parole, pesano ogni singola lettera. Oggi ho letto anche un sito tipo infanziabellissima.it o qualcosa del genere, che diceva, ma che cosa vorrà mai dire il loro ultimo messaggio? Ora, visto che io a Jack Folla non ho mai creduto. chiedo, sì, tipo una cosa del genere con Brian Adams in sottofondo che ti passa il sapone sulla schiena, senza schiuma. Mamma mia, che feticista. Era una paglietta saponata. Sei un feticista. Dolore, dolore. Allora, ci dite qualcosa, per favore, di prima mano come va il frutto? Matteo Romagnoli era l'uomo del monte, d'altronde era l'uomo del monte che ci faceva fare tutto. Diceva di sì o di no a qualsiasi cosa e quindi senza la sua guida è un po' complicato fare le cose. Ed è il 14 giugno scorso che ci ha lasciati e il 14 giugno di quest'anno, nonché una delle date estive, e diciamo che ci siamo trovati sopra un palco ad avere, a confrontarci con questa grande perdita. E boh, l'abbiamo affrontata come l'abbiamo affrontata negli ultimi anni, cioè nell'ultimo anno, cioè stringendoci fra di noi. Diciamo che siamo stati fortunati di avere un bel tour l'estate scorsa, perché c'erano tanti modi per affrontare quella cosa lì e siamo riusciti ad affrontarla insieme. E meno male, meno male è stato così. Che dire, poi abbiamo fatto il live, l'impubblicabile al TPO, che è stato veramente una cosa abbastanza commovente. A mio parere ci sono stati un sacco di band che hanno avuto a che fare con Garrincia in tutti questi anni. Abbiamo fatto anche l'ultimo pezzo registrato mai da Matteo, sotto un milione di nuvole, cantata da tutti quanti gli artisti di Garrincia e anche ex Garrincia. È stato un bel momento, diciamo che è complicato. Adesso vedremo che cosa succederà da qua in avanti senza l'Uomo del Monte. Sì, non abbiamo dato una risposta precisa, perché una risposta precisa non ce l'abbiamo. È il vuoto a ogni scalino. In realtà eravamo abbastanza abituati che rispetto a tutte le nostre crisi intestine, a un certo punto arrivava Matte e portava singolarmente al bar ognuno di noi a dirgli ma che cazzo fai. E ci manca qualcuno che ci chiami e ci dica basta, smettila, ci sono cose più importanti. È molto difficile capire quali sono le cose importanti quando una cosa così importante come la vita viene a mancare. E noi ci stiamo provando. E nel frattempo riusciamo a sentirci protetti solo in posti protetti, solo in posti che si chiamano casa, tipo casa vostra, che sentiamo un po' anche nostra, e quindi grazie per averci voluti qua, anche così a pezzi come siamo. Come sono stati gli idols, Momo? Vorrei fare un commento idilliaco. Sono stati potenti, c'erano anche due ragazzi, entrambi incredibilmente al tuo fianco. Erano presenti e possono garantirti che è stato tutto davvero bello. E non c'era Brian Adams. Beh, diciamo che hanno sputtato tantissimo su quel palco, quindi se scivoleremo è colpa degli idols. Infatti si chiama Effetto Droplet, il nuovo album, che ancora deve essere scritto, però è molto bello. Poi c'era anche stato il Tagada prima, per cui è stato tutto scivoloso, anzi complimenti a questi ragazzi, ragazzotti, che conosciamo abbastanza bene. Beh, ragazzi, c'è una cosa da dire, voi siete pieni di attività fra progetti paralleli, famiglie, patrimoni boschivi e cose del genere. Però, insomma, un sogno da realizzare entro la fine di quest'anno per ognuno dei ministri dello Stato Sociale, che però non suonano con i ministri. Quindi è tutto un casino, anche perché non avete fatto un live al Miami. Allora, io questo è un periodo che faccio incredibilmente niente, a parte la famiglia. Mi sto annoiando molto. Mi sto annoiando molto e sto pensando seriamente, Momo, a proposito di patrimoni boschivi, di fare il giardiniere nella vita. Dopo tre anni di matematica e due di informatica, mi darò le piante, perché mi danno soddisfazione. Nell'annafio crescono, non parlano. C'è un bellissimo terrazzo, lui. Io ho un bel terrazzo, con un sacco di piante, che non dico niente. Sono diventate le mie migliori amiche, Momo. Puoi essere fuori come un balcone. Sono fuori come un balcone, hai ragione. Così. Però guarda che con la matematica e la cibernetica, Uffro Boz ha fatto una carriera parallela, mica da ridere. Ci penso, ci penso, Momo. Intanto mi concentro sulle mie foglie. No, ho delle cose nuove, ma non ho che ho particolari sogni da qui alla fine, perché comunque sono appena diventato papà. E quindi... Non dieci minuti fa. Non dieci minuti fa, ma un mese fa, quindi comunque poco. Sono in libera... Eri con me in quella sala, in quella sala parto. Come si chiama tua figlia, Alberto? Mia figlia si chiama Emilia. Ha un mese di vita. Grazie. Grazie. E quindi direi che il sogno di quest'anno c'è già. Per il resto è tutto in discesa. Non dormire. Poi, gli altri, allora. Noi ci stiamo cimentando un po' a fare gli autori. Il sogno del cassetto è far scrivere un pezzo tipo per una cantante bravissima, come, non lo so, Annalisa, Elodie e metterci dentro un sacco di bestemmie e che vinca Sanremo. Questo voglio che succeda. Cosa dici? Con il nome Elodie e Sanfatti. Ho già scritto metà bestemmia col nome Elodie. Hai ragione. Non l'ho capita, fra un po'... Dai! Riderò sul palco mentre scivolo e vedo Gesù lassù e capirò la gag. Tu cosa vuoi fare? No, vai te prima. Ah, niente, no, io... C'è il mio obiettivo nella vita, io voglio che mi chiamino a commentare il basket. Sto cercando di muovermi all'interno dell'ambito, insomma, così, della cultura pop, dire delle cose qua e là, fino a quando mi chiameranno a parlare di basket. e sfrutto anche i microfoni della potente Radio Sherwood. Indipendente ma potente. Questa storia è l'osca. Fatemi parlare di basket, è l'unica cosa che mi interessa nella vita. Te che vuoi fare? Giacomo! Doveva succedere. Beh, io con Checo ho un progetto di apicoltura nella sua seconda casa perché pianterà un sacco di tigli e quindi stiamo avviando l'attività figli e tigli e poi il mio sogno è diventare sommelier di primo livello entro la fine di quest'anno, poi vedremo. Finalmente avere il titolo. Finalmente avere il titolo. Da fortitudino, giusto quel titolo. Esatto. Non potevo farmi... Io adesso sfrutto appunto la potente ma indipendente Radio Sherwood per condividere un sogno che ho maturato da qualche tempo non è entro la fine dell'anno ma entro il 12 di settembre dell'anno prossimo ovvero entro i 40 anni io voglio finalmente diventare di destra e voglio finalmente provare l'ebrezza di essere maggioritario e vedere cosa succede quando sei nella maggioranza del paese se davvero si rompe quell'incantesimo di Nani Moretti che si ferma al semaforo di fianco a uno con la cabrioletta e dice perché io secondo me forse sarò sempre una minoranza e quell'altro va via. Guarda che io sono mancino ma se ti correggo non è peggio. Anch'io sono mancino, non mi ha mai corretto quindi a 40 anni sono come obiettivo di diventare di destra non so se ci riuscirò perché non ho ancora trovato un maestro o una maestra sufficientemente affidabile. Bebo adesso è facile diventare di destra adesso devi provarci dieci anni fa cerca il tuo canale Telegram lo troverai segui quel ragazzo quasi nudo che vedi sul canale Telegram la mia teoria è che mi sono convinto che in 38 anni forse porto sfiga alle parti politiche di cui faccio parte che tifo diciamo così adesso provo di diventare di destra così magari avremo finalmente questo potresti limitarti a farlo per la Virtus potresti prendere questa decisione acquistare la Virtus no appunto così sarebbe già abbastanza di destra così dieci leoni continuerebbero a fare altro non lo so ci penso uo uo la fortitudo è facile puoi farcela è anche vero che il più grande statista del novecento è partito possedendo il Milan e quindi forse anche io devo partire dallo sport mi sto allenando a dirle le cose di destra non sono credibile però non così ok monetariamente allora ragazzi quando ascoltiamo il vostro ultimo brano che sia in vinile o che sia in digitale c'è una grandissima malinconia notevole superiore persino a quella degli Smiths per forza di cose però questa sera porterete una super festa sul palco dopo il gigantesco funeral party per Matte che è stato toccante e divertente ed emozionante il prossimo progetto dello stato sociale sarà? lo chiedo per alfemminile.com allora facciamo un audiolibro facciamo un audiolibro con dentro un sacco di versi di animali e in realtà è preparazione da tantissimo tempo perché io e Checco siamo bravi a fare gli animali io anche Checco adesso è fare la ballena bene benissimo no in realtà no sto tergiversando questo perché abbiamo dei pavoni vicino allo studio in cui registriamo e quindi se sentite se ascoltate bene i dischi a più tipo 50 db sentite le cose sono sempre andate bene prima perché il vostro studio si chiamare a medicina questo è il discorso made in China in realtà ecco giustamente ti è piaciuta? ok sono circa 12 anni che vi conosco e ancora non riesco a capire alcune cose però del resto penso che la cosa sia reciproca ed è tutto molto bello assolutamente io ogni volta che vengo a un'intervista qua poi esco molto confuso e felice no non lo so non lo so se è felice mi rintroni mi rintroni non ci sono paragoni penso coglione e penso la prossima volta che verrò a Sherwood studierò giuro che studierò leggerò un sacco di libri ascolterò un sacco di musica così finalmente riuscirò a capire quello che dice Momo e ogni volta non funziona è il paradosso di Achille e la tartaruga io di Achille e Lauro ho studiato bravissimo 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 quindi la scaletta è rimasta la stessa ultima che ho fatto alcuni anni fa perché qua sono tutti pigri e non ho voglia di fare un cazzo e quindi la scaletta è la stessa di Sherwood di due anni fa no no è un po' diversa davvero? no è un po' diversa qualcosina di diverso c'è cosa c'è di diverso? non ci sono i pezzi belli ci sono solo i pezzi brutti ma anche che fanno che fanno molto ridere la gente che la trovava divertente ci sono due cover di Elodie sì e con le bestemmie dentro quelle censurate dai poteri forti ma doppia fa una bestemmia intera? come scusa? niente prego non ti preoccupare non c'è nessun problema cosa c'è nella scaletta? nella scaletta ci sono i pioli non l'allenatore del Milan bravo ci sono i pioli? ci sono i pioli nella scaletta e anche i corrimano no cosa c'è nella scaletta? c'è un pezzo che non facciamo da un sacco di tempo davvero? sì ma non posso dire quale ma io lo conosco? sì tu dovresti sapere qual è quello? allora carota carota dice delle cose ma voi non potete sentire la maggiore vero? la minore no maggiore maggiore o minore io non ho mai capito la differenza è che tipo uno c'è un dito in più uno un dito in meno ah ok va bene per me è uguale no? per te è uguale per te è uguale va per la maggiore io ho un problema di dita quante dita hai? una in più quando è maggiore e una in meno quanto è minore? quante gambe hai? sì sì quando è maggiore due in più e invece tu momo che cosa faresti stasera sul palco? se salissi sul palco con noi cosa che succederà? cosa farai? schifo e allora in onore di questo stupido sexy futuro che cos'è per voi Sherwood Festival last but not least e neanche Listomania vuoi una risposta retorica o vuoi una risposta di destra? la risposta retorica è bella vuoi una risposta retorica di destra? ah è molto difficile non sono ancora arrivato a quel livello del corso sono ancora beginner quello è intermediate non riesco ad articolare retoriche di destra così bene attorno a uno dei posti che ci ha accolto quando eravamo letteralmente una band da 100 persone cioè nel senso eravamo degli scappati di casa e abbiamo suonato a Sherwood in sede della radio e siamo rimasti amici e quindi in qualche maniera quando torniamo qua lo ripetiamo costantemente ma non suona mai banale quando siamo qui ci sentiamo a casa non vorremmo mai andarcene e vorremmo che durasse 365 giorni l'anno quindi siamo veramente molto 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 felici tutte le volte che entriamo da questi cancelli e tutte le volte che stiamo insieme a voi e insieme ovviamente anche al pubblico che ci viene a vedere però ecco questa forse può suonare un po' un po' strana però la grande differenza che fa suonare qua è ovviamente la possibilità di suonare a un euro può bastare ma anche a gratis per chi vuole ma sono le persone con cui stiamo e con cui lavoriamo con cui condividiamo una fetta della giornata che molto spesso è bastante per diversi mesi a venire non basta per tutto l'anno e quindi è un po' un dispiacere però poi diventa anche una scusa per venirsi a trovare in altre situazioni in altri luoghi in altri laghi bellissimo adesso vi do la risposta retorica di destra basta che sostituiate l'Italia con Sherwood l'Italia è il paese che amo qui ho le mie radici le mie speranze i miei orizzonti qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore qui ho anche appreso la passione per la libertà ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare direi che basta così grazie allora merda 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 e vi aspettiamo sul palco o meglio vi dobbiamo seguire perché siamo qui con voi grazie The Smith grazie una riunione eccezionale la riunione eccezionale la riunione eccezionale la riunione eccezionale Grazie a tutti.